Dieci piccoli indiani, capitolo ottavo. Fu facile assicurarsi la collaborazione di Bloor, che si lasciò immediatamente convincere dalla loro ipotesi. Quanto mi dite circa le statuine di porcellana dà tutto un altro aspetto alla faccenda. È pazzia, pura pazzia. C'è una cosa, però. Non credete che questo Owen possa lavorare per procura, diciamo? Si spieghi meglio. Intendo dire, dopo la strepitosa rivelazione trasmessa dal grammofono ieri sera, il giovane Marston perde la testa e si avvelena. Poi perde la testa anche Rogers ed elimina la moglie, tutto secondo i piani di uno. Armstrong scossa il capo poco convinto. Insistette sul cianuro. Bloor ne ammise l'importanza. Già, l'avevo dimenticato. Non è una cosa che ci si porta dietro di solito. Ma come ha fatto a finire nel bicchiere di Marston? Ci ho pensato a lungo, disse Lombard. Marston ha bevuto parecchi whisky ieri sera, ma fra il penultimo e l'ultimo è passato un po' di tempo. E in quel frattempo il suo bicchiere è rimasto su uno dei tavoli. Anzi, credo senza esserne proprio certo, sul tavolino accanto alla finestra. La finestra era aperta. Avrebbero potuto mettervi una dosi di cianuro dall'esterno. Senza che nessuno di noi se ne accorgesse? Obiettò incredulo Bloor. Noi eravamo tutti troppo distratti da altri pensieri per accorgercene, ribatte Lombard. Questo è vero, assenti piano Armstrong. Eravamo stati accusati tutti, senza eccezione. Passeggiavamo agitatissimi per la stanza, discutevamo indignati, assorti nei nostri casi personali. Credo che la cosa sarebbe stata possibile. Bloor scrollò alle spalle. In qualche modo è stata possibile. Ora, signori, cominciamo a darci da fare sul serio. Nessuno ha una rivoltella, ma credo che sia sperare troppo. Io ce l'ho, disse Lombard, e si toccò la tasca. Gli occhi di Bloor si dilatarono. Chiese con tono troppo volutamente indifferente. La porta sempre con sé? Di solito sì. Mi è accaduto spesso di trovarmi in posti pericolosi. Oh, fece Bloor e aggiunse. Beh, probabilmente non si è mai trovato in un luogo più pericoloso di questo. Se un pazzo si nasconde nell'isola, potrebbe avere con sé tutto un arsenale di armi. Armstrong tossì. Su questo potrebbe aver torto, Bloor. Molti pazzi omicidi sono persone che non si fanno notare in alcun modo. Simpaticissime in compagnia. Non ho l'impressione che questo sia un tipo del genere, dottor Armstrong, osservò Bloor. Cominciarono a fare il giro dell'isola, e la loro impresa risultò inaspettatamente molto semplice. A nord-ovest, verso la costa, le rocce piombavano a picco sul mare, con la superficie perfettamente liscia. Sul resto dell'isola non c'erano alberi, e c'era ben poco che potesse servire da riparo. I tre uomini procedettero nelle ricerche metodicamente, esplorando Niger Island dal punto più alto fino alla riva, esaminando da vicino ogni minima irregolarità della roccia che potesse indicare l'ingresso di qualche caverna. Ma non c'erano caverne. Infine, rasentando la riva, raggiunsero il luogo dove il generale MacArthur se ne stava seduto, guardando il mare. Era un angolo pieno di pace, col dolce sciacquio delle onde che si infrangevano sulle rocce. Il vecchio sedeva rigido, con gli occhi fissi all'orizzonte. Non si volse all'avvicinarsi dei tre uomini, e quel suo distacco dava un senso di disagio. Non è naturale, pensò. Sembra caduto in trans. Si schiarì la gola e disse forte, col tono di chi vuole attaccare discorso. Vedo che si è trovato un bel posticino, signore. Il generale MacArthur corrugò la fronte. Si girò appena, lanciandogli un rapido sguardo. Manca così poco, così poco. Devo insistere affinché nessuno mi disturbi. Blur replicò. Non vogliamo disturbarla, abbiamo fatto il giro dell'isola per controllare che non ci sia nascosto nessuno. Il generale si accigliò ancora di più. Lei non capisce. Non può capire. La prego, se ne vada. Blur si ritirò. È impazzito. Meglio lasciarlo solo, disse, raggiungendo gli altri. Lombard domandò con una certa curiosità. Cosa ha detto? Blur si strinse nelle spalle. Qualcosa a proposito del poco tempo che resta. Non vuole essere disturbato. Il dottor Armstrong si fece pensoso. Poi mormorò. Mi domando... L'esplorazione dell'isola era praticamente finita. I tre uomini si fermarono sulla sommità a guardare la riva opposta. Non si vedeva alcuna imbarcazione. Il vento si era fatto più freddo. Nessuna barca da pesca all'orizzonte, disse Lombard, e si avvicina a un corale. È una seccatura non poter vedere il villaggio da qui. Avremmo potuto fare qualche segnale. Potremmo accendere un falo stanotte, suggerì Blur. Ma Lombard ribatte accigliato. Il guaio è che forse il signor Owen ha previsto le nostre azioni e provveduto a neutralizzarle. In che modo? E che ne so. Per esempio presentando la cosa come uno scherzo, una scommessa. Dobbiamo restare relegati qui e nessuno deve prestare attenzione ai segnali. E così via. Probabilmente al villaggio è stato detto che si tratta appunto di una scommessa, o qualche stupida storia del genere. Blur osserva dubbioso. E lei crede che l'abbiano bevuta? È più facile da credersi della verità. Se al villaggio fosse stato detto che Niger Island doveva rimanere isolata finché lo sconosciuto signor Owen non avesse tranquillamente assassinato tutti gli ospiti, pensate che ci avrebbero creduto? In certi momenti non riesco a crederci nemmeno io, disse il dottor Armstrong. Eppure... Philip Lombard con un soghigno continuò. Eppure... Ecco la parola esatta, dottore. Eppure è proprio così. Blur scrutava l'acqua. Nessuno potrebbe essersi lasciato scivolare giù di qui, vero? Armstrong scosse il capo. Ne dubito. La roccia è ripidissima. E dove si sarebbe potuto nascondere? Ci potrebbe essere una cavità nella roccia, osservò Blur. Se avessimo una barca potremmo fare un giro intorno all'isola. Lombard ghignò. Se avessimo una barca saremo tutti a mezza strada dal villaggio a quest'ora. Ah, è vero. Lombard suggerì improvvisamente. Dovremo controllare questa roccia. C'è solo un punto dove potrebbe esserci un nascondiglio, proprio un po' a destra qui sotto. Se potessimo procurarci una corda mi calerei a vedere. Ne varrebbe la pena, disse Blur. Per quanto mi sembri assurdo a pensarci bene. Vado a vedere se riesco a trovare una corda. E si incamminò verso la casa. Lombard guardò il cielo. Le nuvole cominciavano ad ammassarsi. Il vento aumentava di intensità. Lanciò un'occhiata ad Armstrong. Lei è molto taciturno, dottore. A cosa pensa? Armstrong rispose lentamente. Gli stavo domandando fino a che punto sia pazzo il vecchio MacArthur. Vera era stata irrequieta tutta la mattina. Aveva evitato Emily Brent, provando una specie di repulsione per lei. La signorina Brent si era portata a una sedia dietro la casa, dove era riparata dal vento e stava lavorando a maglia. Ogni volta che Vera pensava a lei le sembrava di vedere il pallido viso di una ragazza annegata, con le alghe intrecciate ai capelli. Un viso che era stato grazioso, forse provocante, e che adesso era al di là d'ogni pietà e d'ogni orrore. Emily Brent, placida e severa, se ne stava seduta lavorando a maglia. Sulla grande terrazza il giudice Wargrave era sprofondato in una sedia a sdraio. Quando lo guardava Vera vedeva un uomo rito sul banco degli accusati. Un giovane con i capelli biondi, gli occhi celesti, e il volto spaventato, Edward Seaton. E vedeva il giudice mettersi il tocco nero sul capo e iniziare la lettura della sentenza. Dopo un po' Vera si incamminò lentamente verso il mare. Costeggiò la riva fino all'estrema punta dell'isola, dove un vecchio signore sedeva con gli occhi fissi all'orizzonte. Il generale si scosse all'avvicinarsi di lei. Voltò la testa. C'era uno strano miscuglio di curiosità e di apprensione nel suo sguardo. Vera ne fu turbata. Il generale la fissò per qualche minuto. Che strano. Come se sapesse, pensò Vera. Ah, è lei, disse il generale. È venuta. Vera gli sedette accanto. Le piace star qui a guardare il mare? chiese. Lui a noi? Sì, rispose. Mi piace. È un bel posto questo per aspettare. Per aspettare? ripeteva era brusca. E cosa aspetta? La fine. Ma credo che anche lei lo sappia. Perché così non le pare? Noi tutti aspettiamo la fine. Cosa intende dire? chiese Vera con voce incerta. Il generale MacArthur spiegò grave. Nessuno di noi lascerà l'isola, questo è chiaro. Certo, lei lo sa perfettamente. Quello che forse non capisce è il sollievo che ne deriva. Il sollievo? Sì. Naturalmente, lei è giovane, non ancora pronta per questo. Ma verrà. Verrà quel benedetto sollievo di sapere che ormai è finita, che non bisogna più trascinarsi quel peso. Anche lei lo proverà. Io non capisco. Le dita di Vera si contrassero spasmodicamente. A un tratto ebbe paura di quel vecchio. Lui riprese, mi dì da pondo. Vede, io amavo Leslie. L'amavo tanto. Leslie era sua moglie? domandò Vera. Sì, mia moglie. L'amavo ed ero fiero di lei. Era così graziosa e allegra. Tacque un attimo. Poi continuò. Sì, amavo Leslie. Ecco perché ho fatto quella cosa. Vuol dire... incominciò Vera. E subito si interruppe. Il generale McArthur annui. È inutile negarlo adesso che stiamo per morire. Fu io a mandare Richmond alla morte. Credo che in un certo senso questo sia un assassino. Strano, assassino. E io sono sempre stato così rispettoso della legge. Ma non mi sembrava un delitto allora. Non avevo rimorsi. Gli sta bene a quella canaglia. Ecco quello che pensai. Ma poi... con voce dura, Vera insistette. Poi? Lui scosse la testa. Sembrava confuso e inquieto. Non lo so. Io non so. Mi sembrò tutto così diverso poi. Non so se Leslie abbia mai intuito, non credo. Ma vede... non sapevo più nulla di lei. Era come se fosse andata lontano dove non potevo più raggiungerla. E poi morì. E io rimasi solo. 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 Ripetè Vera. E le rocce le rimandarono l'eco della sua voce. Anche lei sarà contenta quando verrà la fine. Sussurrò McArthur. La ragazza si alzò. Non capisco cosa vuol dire. Ribatte aspra. Lui rispose paziente. Io lo so, figliola. Lo so. Lei non sa niente. Non capisce niente. Il generale McArthur fissava di nuovo il mare. Sembrava inconsapevole della presenza di lei. Chiamò piano con dolcezza. Leslie. Quando Blur tornò con un rotolo di corda appeso al braccio, trovò ancora Armstrong dove l'aveva lasciato. Intento a fissare l'abisso. Senza fiato per la corsa gli domandò. Dov'è il signor Lombard? È andato a verificare qualche sua teoria. Tra poco sarà di ritorno. Blur sono preoccupato. Direi che lo siamo tutti. Il dottore agitò una mano impaziente. Naturalmente. Non intendo questo. Pensavo al vecchio McArthur. Cosa pensa, dottore? Quello che stiamo cercando è un pazzo. E come giudica lei McArthur? Blur osservò incredulo. Le pare che abbia tendenze omicide? Direi di no, rispose il medico incerto. Ma non sono uno psichiatra. E poi non ho avuto con lui una conversazione vera e propria. Non l'ho studiato da questo punto di vista. È un tipo strambo, questo sì, ma non mi sembra. Armstrong lo interruppe. Con leggero sforzo di chi riprende il dominio di sé. Lei ha ragione. Probabilmente. Maledizione, ci deve essere qualcuno nascosto nell'isola. Oh, ecco Lombard. Fissarono la corda alla roccia con la massima cura. Farò del mio meglio per cavarmela da solo, disse Lombard. Ma state attenti, se la corda si tendesse improvvisamente. Mentre osservavano i movimenti di Lombard, Blur disse. Sembra un gatto, vero? La sua voce aveva un tono strano. Deve aver fatto parecchie scalate, osservò il dottor Armstrong. Può darsi. Ci fu un silenzio. Poi l'ex poliziotto disse. Uno strano tipo, ogni modo. Sa cosa penso? Cosa? Non mi pare un uomo di cui ci si possa fidare. In che senso? Blur sbuffò. Non lo so esattamente, ma non gli darei neanche un po' di fiducia, questo è certo. Deve aver avuto una vita molto avventurosa. Scommetto che alcune delle sue avventure se le tiene gelosamente segrete, disse Blur. Dopo una pausa aggiunse. Per caso ha portato una rivoltella, dottore? Armstrong lo guardò meravigliato. Io? No. Perché avrei dovuto portarla? E perché l'ha portata il signor Lombard? Armstrong rispose incerto. Ma per abitudine, credo. Blur fece una smorfia di scherno. La corda diede uno strappo improvviso. Per alcuni istanti i due uomini furono troppo occupati per parlare. Quando la tensione diminuì, Blur disse. Ci sono abitudini e abitudini. Che il signor Lombard porti una rivoltella in luoghi isolati, sta bene. E anche un fornello a petrolio, un sac a pelo e un insetticida. Ma l'abitudine non gli ha fatto portare qui tutta quella roba. Solo i protagonisti dei romanzi tengono la rivoltella in tasca come il fazzoletto. Il dottor Armstrong scosse la testa, perplesso. Poi lui e Blur si inchinarono a osservare Lombard, che terminava la sua esplorazione. La ricerca era finita, ma videro subito che non aveva dato alcun frutto. Lombard risalì sulla roccia, si asciugò la fronte madida di sudore. Bene, disse. Non ci rimane altro da fare. O l'uomo che cerchiamo è nascosto in casa, o non è in nessun posto. La casa venne spezionata facilmente, esplorando innanzitutto le poche costruzioni annesse e infine l'edificio principale. Ma non c'erano nascondigli in quella semplice e lineare villa moderna. Prima esaminarono il pian terreno, mentre salivano al piano superiore dove si trovavano le camere da letto, scorsero dalla finestra del pianerottolo Rogers, che portava un vassoio carico di cocktail sulla terrazza. Splendido esemplare di perfetto domestico. Continua il suo lavoro come se niente fosse, commentò Lombard. Armstrong confermò. Rogers è un maggiordomo di classe, bisogna riconoscerlo. E sua moglie era una bravissima cuoca, aggiunse Bloor. Quella cena di ieri sera... Entrarono nella prima delle camere da letto. Cinque minuti dopo si ritrovarono sul pianerottolo. Nessun nascondiglio. «C'è una piccola scala qui», disse Bloor. «Porta di sopra, alla camera della servitù», osservò il dottor Armstrong. Bloor aggiunse «Ci deve essere dello spazio sotto il tetto, per le cisterne, i cassoni dell'acqua e così via. È il miglior nascondiglio possibile, l'unico». Proprio allora, mentre erano fermi lì, ci fu un rumore di sopra. Un lieve rumore di passi furtivi. Tutti e tre lo udirono. Armstrong afferrò il braccio di Bloor. Lombard alzò un dito. «Zitti, ascoltate». Il rumore si ripetè. Qualcuno si muoveva piano, furtivamente. Armstrong sussurrò. «È nella camera da letto, quella dove si trova la salma della signora Rogers». «Ma certo», mormorò Bloor. «Il miglior nascondiglio possibile. Nessuno andrebbe lì. Avanti, presto, senza far rumore». Salirono cauti e silenziosi. Sul piccolo pianerottolo si fermarono fuori dalla porta. Sì, c'era qualcuno nella stanza. Si udiva un leggero scricchiolio. «Pronti?», disse Bloor. Spalancò la porta e si precipitò dentro, seguito dagli altri. E tutti e tre si fermarono sbalorditi. Nella camera c'era Rogers, con le braccia cariche di indumenti. Bloor si riprese per primo. «Ci dispiace, Rogers. Abbiamo sentito qualcuno che si muoveva qui e abbiamo pensato... già». Si interruppe, non sapendo più cosa dire. «Stavo ritirando la mia roba. Spero che i signori non facciano obiezioni se mi trasferisco in una delle camere vuote qui sotto, la più piccola». Si era rivolto ad Armstrong e il medico rispose «Naturalmente, certo. Come desidera Rogers». Evitava di guardare verso il letto sul quale giaceva il corpo avvolto nel lenzuolo. «Grazie, signore». Rogers uscì dalla camera con le braccia cariche e scese al piano inferiore. Armstrong si avvicinò al letto e, sollevando il lenzuolo, guardò il viso della morta. Quel volto non era più impaurito ora, ma senza espressione. «Vorrei avere qui il necessario per fare un'analisi e scoprire di che veleno si tratta», disse il medico. Poi rivolgendosi agli altri due. «Finiamo quello che dobbiamo fare. Ho l'impressione che non troveremo niente». Blor stava trafficando intorno al lucchetto di una porticina. «Quel tipo si muove in silenzio come un gatto», osservò. «Due minuti fa l'abbiamo visto sulla terrazza. Nessuno di noi l'ha sentito salire qui». «Per questo abbiamo pensato che ci fosse un intruso quassù», disse Lombard. Blor scomparve in una cavernosa oscurità. Lombard trasse di tasca una piccola torcia elettrica e lo seguì. Cinque minuti dopo i tre uomini si ritrovarono sul pianerottolo e si guardarono in silenzio. Erano sudici, coperti di ragnatele, e avevano il volto contratto dalla tensione. Non c'era nessuno sull'isola, oltre al loro otto.